Siamo con Lorenzo, uno studente novese. Lorenzo, come mai siete qui oggi? Siamo qua oggi perché protestiamo contro la spesa pubblica dello Stato, contro la sanità e a favore di opere inutili come il terzo valico. Sappiamo tutti i lati negativi della grande opera, un'enorme spesa pubblica e enormi danni per la salute. Siamo un po' una presa in giro, ci tolgono la salute per darci il terzo valico. E noi qua non ci stiamo perché vogliamo prenderci il nostro futuro, vogliamo vivere senza tab e con la salute.